Tutti sanno che quanto è importante mangiare verdure. In questo caso noi lavoriamo sulle verdure da anni preparandole per il consumo, cioè tecnicamente si chiamano quinta gamma, ma semplicemente sono le verdure cotte o grigliate pronto all'utilizzo. Presentiamo un prodotto pronto al consumo senza nessuna aggiunta di conservanti o di acidificanti, quindi è un prodotto totalmente naturale che in cucina si può scaldare o anche mangiare freddo e in un attimo si consumano quelle porzioni di verdura che oggi tutte le ricerche scientifiche danno come basilari per la salute di ognuno di noi. Tutta la nostra azienda è certificata, abbiamo le certificazioni BRCFS valide per tutta Europa e dal punto di vista produttivo abbiamo la Global Gap che è una certificazione basilare per tranquillizzare e dare sicurezza al consumatore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!